Quando lavori con i clienti hai bisogno di essere affidabile, hai bisogno di rispettare le scadenze, di non sovrapporre le cose, di ricordarti le cose e quindi devi gestire tante informazioni riguardo ai tuoi progetti, riguardo alle persone per cui lavori all'interno di questi progetti, a gestire i tuoi task eccetera eccetera eccetera. La situazione si fa complicata velocemente, soprattutto se non usi uno strumento decente, per questo poi esplodono gli strumenti tipicamente a pagamento per gestire i progetti e i clienti, soprattutto per i freelance, prova a pensare Trello, prova a pensare Asana, sono gratuiti ma spesso poi devi pagarli per personalizzarli, aggiungere pezzi. Oggi ti voglio mostrare come creare la tua dashboard personalizzata, totalmente personalizzata, quindi che va oltre quello che ti possono offrire gli altri servizi diciamo chiave in mano e come farlo in Notion. Uso Notion da quando è uscito, praticamente da quando è diventato disponibile e lo uso un po' per tutto quanto, l'ho usato anche per lavorare con i clienti, per esempio clienti di copywriting e clienti in generale di consulenze di marketing. Ti mostrerò come realizzare una dashboard in cui gestire i clienti, come gestire i progetti e come gestire le task, i compiti all'interno dei progetti. Chiaramente tu potresti avere delle esigenze diverse e infatti quello che ti insegnerò ti permetterà anche di personalizzare la cosa e attenzione in descrizione trovi il link per scaricare quello che vedrai, quello che realizzerò qui dentro il video e poi importarlo dentro il tuo Notion sarà tutto fattibile con un account di Notion gratuito. Quindi saltiamo dritti a Notion. Allora qui è un account gratuito che ho creato apposta per questi tutorial di Notion che sto pubblicando. Attenzione tra l'altro trovi in descrizione anche la playlist con tutti gli altri tutorial, tra cui per esempio quello con il template per gli articoli, per i diari eccetera. Veniamo al nostro pannello di controllo dei clienti. Sarà una situazione abbastanza complicata, conterrà più cose, quindi prima di tutto cliccando qui su add a page aggiungiamo una pagina che farà da contenitore, chiamiamolo però pannello di controllo perché non ho un nome più intelligente. E dentro ci aggiungeremo diverse tabelle. Allora in Notion il modo più veloce di lavorare è totalmente con la tastiera. Potrei tranquillamente premere sul più e andare a cercare tabella però non è table, devo andare giù, devo andare giù, devo andare giù e scegliere un database, questo io voglio. Clicco su table view e poi new database che però me l'ha inserito qui. Io in realtà voglio un database nella sua pagina, quindi ti faccio vedere apposta un errore per spiegarti cosa, come fare, qual è la soluzione migliore. Quindi questa in realtà la vado a cancellare perché non mi interessa. Il modo più veloce invece è premere la, inserire shift set, quindi la slash, la sbarra e poi cominciare a scrivere table e tu gli dici ok voglio table view e qui ottieni la stessa cosa. Però poi lo voglio in una pagina a sé stante, quindi clicco su turn into page. Per il momento è untitled e invece la apro e le do un altro nome, la chiamo clienti. Ok, poi torno indietro e qui aggiungo un'altra table view e la chiamo, sempre new database, e la chiamo, ti faccio vedere un altro modo per rinominarla, progetti appunto, ecco, ma anche questa la trasformo in una pagina e infine ne faccio un'altra che chiamerò task. Questa sarà un po' la più complicata e è uno dei modi in cui puoi creare un task manager dentro dentro Notion e capirai tra un po' di cosa si tratta. Allora clicco qui e anche questa la trasformo in pagina perché non voglio una mega pagina con un miliardo di tabelle incorporate dentro, voglio un contenitore che mi permette di accedere alle varie tabelle, poi magari le varie tabelle avranno un rapporto tra di loro. Io sto usando il termine tabelle perché è così un termine molto popolare, in realtà si chiamerebbe database perché in Notion tutto quanto praticamente è una pagina oppure è un database e le pagine poi sono raccolte dentro il database. Allora ho creato clienti, progetti e task. Andiamo prima di tutto a lavorare sui clienti. Come vedi c'è scritto no data source, vuol dire non c'è nulla dentro questo database, io non voglio collegarmi ad altri database, non voglio mostrare qui dentro altri database, voglio un nuovo database. Lui mi crea il solito database con due proprietà inutili, o meglio una obbligatoria e l'altra spesso inutile e tre righe vuote, questo succederà sempre. Cosa a questo punto voglio inserire i dati dei clienti? Cosa voglio salvare dei miei clienti? Cosa voglio memorizzare? Allora il nome rimarrà il nome, se lavori in italiano lo chiami nome giusto per sicurezza. Poi al 99% ti servirà un indirizzo email, quindi questa colonna che è una proprietà del tuo cliente, un dato che salvi nel profilo volendo chiamarlo così, nel contatto del tuo cliente, qui c'è scritto tag, a me i tag non interessano, invece voglio l'email, quindi vado a scendere giù e vedi che c'è un tipo specifico di email che ti permette di verificare che stai effettivamente inserendo un indirizzo email, non è testo casuale, e lo chiamo email, quindi di nuovo clicco sulla colonna e lo chiamo email. Poi una cosa che è sempre utile sono le note, note generiche, che è una proprietà di testo standard, vedi tipo testo, e poi potrebbe essere tutto qua, però chiaramente potresti andare a inserire il numero di telefono e allora a quel punto sarebbe un number e quindi lo chiamaresti telefono, oppure potrebbe essere l'indirizzo e l'indirizzo probabilmente sarebbe testo, quindi metteresti testo e poi indirizzo, ma poi ci interessa capire quali lavori sono assegnati a quel cliente, quali lavori stiamo facendo per quel cliente, quindi attenzione, useremo una relazione che la potremmo aggiungere qui oppure nella tabella dei progetti, ma visto che ci siamo andiamo qui a cliccare sui clienti, aggiungiamo un'altra proprietà e scendiamo giù in relazione, creiamo quindi, dobbiamo scegliere un altro database con cui creare un collegamento e scegliamo progetti, allora vogliamo che anche questa relazione sia mostrata in progetti, quindi siamo in relazione con progetti, non mettiamo nessun limite, cioè possiamo collegarci con qualsiasi numero di pagine, ovvero un cliente può essere collegato con qualsiasi numero di progetti e vogliamo che si veda il cliente anche nel progetto, ti farò vedere tra un po' di cosa si tratta, ma in sostanza se attivo questa nella tabella progetti, nel database progetti ci sarà una proprietà clienti in maniera chiaramente che io posso vedere nel progetto qual è il cliente e nel cliente qual è il progetto e lui mi fa vedere questa preview che trovo abbastanza inutile, invece di esserci una freccia ci sono due frecce, perché hai fatto una relazione che va in entrambi i versi, quindi clicco add relation, al momento è vuota o meglio ci sono tre untitled che sono i contenuti di default, gli elementi di default inseriti nella tabella progetti, tra poco ti sarà tutto molto più chiaro. Queste sono le cose essenziali, volendo potresti voler salvare la partita IVA perché magari così usi Notion anche poi per gestire la fatturazione e eventualmente potresti salvare altre informazioni che magari dipendono dal tuo tipo di lavoro, per esempio potresti voler, avendo magari tanti clienti, potresti voler segnare dei tag che li etichettano, che tipo di cliente è, non so potrebbe essere parrucchiere, pizzeria, eccetera, però questo dipende un po' dal tuo lavoro, quindi poi quando vuoi inserire un cliente cosa fai? O clicchi qui dentro e metti il solito, chiamiamolo Paolo Rossi, così giusto per essere molto originali. A questo punto poi puoi anche aprire e inserire delle note qui all'interno, se non vuoi renderle visibili qui nella proprietà che ho creato, e poi scrivici tutto quello che vuoi, le tue riflessioni, le tue idee, i prossimi spunti per altri progetti, la data dell'ultima volta in cui ti sei contattato, trascrivere le conversazioni che avete avuto, qua puoi espandere all'infinito, ma rimaniamo un po' sulle cose base che servono in uno scheletro di base appunto per gestire i progetti per qualsiasi freelance. Se hai qualsiasi domanda, qualsiasi aggiunta, mettimela poi nei commenti. Come vedi tutte le colonne che ho messo qui nel nostro database sono proprietà del cliente Paolo Rossi e quindi se voglio tra l'altro posso anche riordinarle perché magari per esempio la partita IVA mi interessa di più, le note mi interessano di meno, il telefono mi interessa di più, eccetera. Allo stesso modo puoi restringere le colonne per facilitare la visualizzazione, eccetera. Un'altra proprietà che dipende, potrebbe tornarti utile a seconda di come poi lavori nel tuo flusso di acquisizione dei clienti, potrebbe essere una proprietà di tipo select che ti permette di associare sostanzialmente uno status al cliente e quindi appunto chiamiamolo proprio stato e allora qui potresti andare a cliccare, il tipo appunto è select e allora qui poi potresti una volta inserita la proprietà, andare a modificarla e inserire tra le opzioni, per esempio potrebbe essere contattato e poi rifiutato e poi potrebbe esserci preventivo, inviato e cose del genere. Poi tra l'altro magari ci vai anche a cambiare colore perché il rifiutato sarà rosso, preventivo e inviato potrebbe essere giallo, contattato potrebbe rimanere azzurro e poi potresti mettere in corso e quello lo metti verde, ecco così via. Così puoi tracciare lo stato in cui si trova il tuo cliente. Chiaramente qui puoi mettere dentro tutti i dati che vuoi e mettiamo un numero di telefono a caso, lui non può verificare chiaramente se questi numeri sono giusti, è anche una partita IVA a caso, ecco. Abbiamo intanto un cliente che ci servirà per farci riferimento negli altri database. E ora è il caso di parlare dei progetti. Allora i progetti sono un'altra tabella, un altro database, quindi clicchiamo qui su progetti, vedi che anche qua ci sono tre spazi vuoti. Allora supponiamo di avere un progetto di copy pagina di vendita, ecco chiamiamolo così. Quali proprietà potrebbe avere questo progetto? Allora intanto il cliente e il cliente l'abbiamo già collegato. Vedi che avevo creato la relazione di là e è comparsa anche in questa tabella. Invece di esserci solo il tag standard c'è anche la relazione clienti e attenzione se clicco qui trovo che ci sono tre valori. Due sono le righe vuote che non ho cancellato e poi Paolo Rossi che ho aggiunto io. Se clicco qui più posso avere il cliente Paolo Rossi per il progetto pagina di vendita. Ora per la massima chiarezza andiamo di là e vedi che Paolo Rossi è associato al progetto copy pagina di vendita e questo può essere molto utile così hai bene chiare le cose che stai facendo. Poi possiamo effettivamente riciclare il campo tag, mettiamolo in italiano così tag, e perché magari vogliamo tenere traccia delle tipologie di progetti su cui stiamo lavorando. Questo sarà un progetto di copy per esempio. Lascio come tipologia di proprietà in tipo appunto multi select perché magari potrebbe essere che all'interno di un progetto ci sia più di un tipo di lavoro, per esempio potrebbe ci sia copy che web design per esempio. Quindi questo può essere una curiosità, diciamo qualcosa che Notion ti dà la possibilità di fare e che si sta un secondo ad impostare. Poi eventualmente grazie ai filtri se hai i tag puoi permetterti di selezionare solo certi progetti per capire per esempio se un giorno non hai nessuna voglia di lavorare sul copy però ti senti di lavorare su web design selezioni un progetto in cui c'è da fare del web design per esempio. Anche qui ha senso mettere lo stato, lo stato del progetto, qui ha veramente molto senso. E allora vai a scegliere anche qui select e lo chiami stato e inserirai alcuni stati sensati. Quindi potrebbe esserci in attesa e potrebbe esserci chiaramente idea, secondo se stai magari ancora valutando la progettazione. Potrebbe esserci in corso, un generico in corso, potrebbe esserci attesa pagamento. Qui personalizzali in base a quello che è il tuo modo di lavorare chiaramente. Il concetto è che crei una proprietà select e ci metti dentro diversi stati. Quindi supponiamo di aver mandato il nostro preventivo a Paolo Rossi, quindi questo progetto è in attesa. Ok. E questo appunto è lo stato. Poi una cosa importantissima nei progetti è la scadenza, la data di scadenza finale. Ti dicevo la gestione dei progetti è utile in primis per essere affidabili verso i clienti. Quindi è meglio aver ben visibile la data di scadenza. E ti puoi mettere la data di scadenza della consegna. Attenzione che il formato è spesso americano, quindi metti giorno, mese, anno, nel formato delle ore 24 ore, anche se probabilmente non userai le ore nella scadenza del progetto. E quando usi una proprietà di tipo, come hai visto, date, allora puoi scegliere dal calendario la data della scadenza. Se vuoi puoi anche inserire un reminder. Allora vedi che io ho messo 20 del 12, clicco su vicino a Remind su questo pulsante a destra e posso mettere un reminder il giorno dell'evento, un giorno prima, due giorni prima o una settimana prima. Allora metto per esempio una settimana prima. Una cosa particolare che può essere molto utile nel caso dei progetti è anche la data di fine. Quindi magari se tu vuoi organizzare, anche evitare di sovrapporre progetti tra loro, puoi dire ok questo progetto lo comincio il 20 però lo voglio finire il 3, ecco, e attenzione è che lui te lo fa vedere in rosso perché ho messo il reminder una settimana prima, mettiamo un giorno prima. Ecco, adesso vedi che hai la data d'inizio, la data di fine e l'orologino, la sveglia che ti indica che hai messo un reminder. Purtroppo il reminder lascia il tempo che trova perché ti indica, ti dà il reminder prima dell'inizio e quindi se usi la durata vale quello che vale. Ok, questo per quanto riguarda la scadenza. Poi potresti mettere per esempio durata stimata, durata però qui è più un'indicazione per te, così come riferimento, quante ore ci vorrai lavorare. Quindi qui userai un numero. Se lavori in gruppo allora può avere senso assegnare delle persone, quindi metti il più e vedi che puoi aggiungere person. Le persone che potrai aggiungere qua però saranno solo persone che fanno parte del tuo account, quindi ti servirà un account a pagamento, oppure puoi aggiungere anche le persone che hai direttamente invitato in questa pagina. Quindi se tu clicchi su share e aggiungi le persone da qui, allora queste persone saranno presenti all'interno di questo singolo progetto. E questo è un consiglio per condividere i progetti con i clienti, perché tu apri la pagina del progetto, clicchi su share, inserisci qui l'email della persona, la persona dovrà creare un account gratuito di Notion, ma non ti serve l'account a pagamento, la inviti e poi quella persona potrà vedere questa pagina, altrimenti devi condividere la pagina come share to web, ma in quel caso non troverai il suo nome qui dentro. Se vuoi far partecipare delle persone allora hai bisogno di fare il processo che ti ho detto prima. Allora questo per quanto riguarda i progetti. Andiamo a cancellare queste due righe vuote perché non ci facciano confusione dopo. E ci manca una cosa, un'ulteriore relazione, perché ogni progetto sarà composto da più task. Quindi per quello ho creato un database aggiuntivo che si chiama task. Clicco sul più e aggiungo una proprietà di tipo relazione, come ho fatto tra progetti e persone, progetti e clienti. Vado a cliccare su relation e poi vado a cliccare su task. Anche qui qual è la relazione? Mettiamo no limit e vogliamo mostrare il progetto anche sulle task? Certamente perché in un task voglio capire di che progetto fa parte e quindi clicco su add relation. Ok. Allora questa è una relazione che ci porta dritti a task dove per il momento ci sono le solite task vuote che sono state inserite di default. Una cosa in più che ti può tornare utile è questa. Guarda mettiamo vicino queste due colonne clienti e task hanno la stessa iconcina qua perché questa icona è l'icona della relazione. Ma tu magari rischi di confondere, vuoi un colpo d'occhio più veloce. Quindi puoi cliccare sulla proprietà, cliccare su questa icona qui dove c'è la freccina e usare un'altra icona dal database delle icone di Notion. Il motore di ricerca di solito funziona se sai usarlo in inglese. Quindi siccome qui parliamo di clienti, cerchiamo person e mettiamo una persona e qui siccome cerchiamo task, vediamo cosa succede se c'è il proprio task. No. Allora magari ci diamo una scrollata. Ah ecco potrebbe essere la checkbox. Eccola qui. E mettiamo il task. Ok. E la stessa cosa la puoi fare per tutte le proprietà che di base hanno l'icona standard di quella tipologia di proprietà e altrimenti puoi personalizzarle per una visione più chiara. Questa può essere una tabella ovviamente. Poi dentro la pagina del progetto puoi di nuovo andare a mettere un sacco di informazioni perché questa è una pagina su cui puoi scrivere, puoi aggiungere testi, puoi aggiungere immagini e tra l'altro ti consiglio di andare a vedere nella playlist linkata in descrizione ti mostro come si scrive un articolo e lì ti mostro anche come incorporare vari tipi di blocchi. no? Testo, oppure una to do list, oppure i titoli, oppure le liste puntate e le immagini e i video eccetera. La pagina del progetto può essere un buon posto dove incorporare tutte queste cose. Forse può essere ancora più interessante farlo dentro i singoli task. Allora andiamo, torniamo al nostro pannello di controllo, clicchiamo sulla tabella task e vedi che come abbiamo visto prima magicamente qui è comparso, è comparsa la relazione progetti e se clicchiamo sullo spazio possiamo linkare un task al progetto copy pagina di vendita che è l'unico progetto che abbiamo. Allora cosa succede? Quando tu hai il tuo progetto copy pagina di vendita vai ad aggiungere i task di quel progetto, quindi mi metto qui e scrivo chiamata conoscitiva, poi potrebbe esserci scaletta pagina di vendita, poi mockup pagina di vendita eccetera eccetera. Adesso ne ho messi tre, chiaramente metti tutti i task che vuoi. Poi selezioni due o tre le righe, clicchi col destro e poi selezioni edit property, progetti e assegni questi task al progetto copy pagina di vendita. Cosa succede? Se io vado, torno al mio pannello di controllo, ai progetti, nel progetto copy pagina di vendita ho la lista dei task da completare. Sembra un po' macchinoso, è effettivamente un po' più macchinoso rispetto ad altri tool, ma questo ti permette di avere le cose separate. Diciamo che la confusione può venire quando? Quando hai un secondo progetto e ti ritrovi tutta un'enorme lista di pagine, quindi di task, facciamo così, aggiungiamo qui task altro progetto e mettiamo qui altro progetto. Vedi che posso creare il progetto da dentro la tabella task, ok? Quindi cosa mi ritrovo? Quattro task di cui uno però non fa parte di quel progetto, non è tanto bello da vedere. Allora posso ovviare con una view, clicco qui su più e crea una nuova visualizzazione. La chiamo con il nome del progetto copy pagina di vendita. Attenzione, clicco invio, clicco su filter, progetti e seleziono solo il progetto copy pagina di vendita. In questo modo, vedi, la view copy pagina di vendita contiene solamente i task del progetto copy pagina di vendita, tanto che se voglio io in questa view clicco qui sui tre puntini e vado a nascondere la proprietà progetti perché non so che in questa view tutti i progetti sono, tutte le task appartengono allo stesso progetto. Di là invece è ancora visualizzato come prima. Ok, questo è per tenere una relazione tra progetti e task e mantenere un po' di ordine all'interno delle tabelle. Altrimenti, altrimenti c'è un altro modo per registrare i task dentro progetti. Dentro la pagina di progetto apri, clicchi su open e inserisci una, per esempio, checklist. Quindi parentesi quadra, parentesi quadra e qui metti task 1 task 2. Questo è molto debole perché non è che puoi mettere troppa roba dentro questi task. Di solito un task magari ha dei materiali che ti servono per eseguire quel task eccetera. Allora un modo più intelligente è all'interno della pagina progetto inserire con la barra una tabella o una board, se vuoi, anzi vediamo se cercando board, ecco una board view che viene incorporata dentro la pagina. A questo punto clicco su new database e qui lo chiamiamo un task e vedi che lui mi ha creato una board con questo, questi tre status standard che lui usa, to do in progress e complete, perché questa è una proprietà, andiamo qui sui tre puntini, di tipo status. Se vuoi più di tre stati puoi seguire il tutorial sugli articoli che trovi linkato nella descrizione, nella playlist su Notion e lì troverai come tracciare molti più stati usando una proprietà di tipo select. Quando tu hai questa board view qui dentro, se vuoi puoi anche tra l'altro nascondere il titolo del database per ridurre lo spazio, ma insomma poco male, se vuoi ci metti, ti chiami task questo, ecco, e qui dentro aggiungi i tuoi task, quindi dicevamo chiamata conoscitiva e poi aggiungi la scaletta pagina di vendita e poi aggiungi mockup pagina di vendita. Poi cliccando su un task hai una pagina in cui puoi inserire tutto quello che vuoi, quindi se puoi mettere qui dentro le note della chiamata conoscitiva per esempio, proprio mentre parli te le tiri giù o registri l'audio e lo ficchi qua dentro perché basta trascinarlo. Puoi fare tutte queste cose. Questo è un modo alternativo di fare quello che ti ho detto prima. Allora, entrambi gli approcci hanno vantaggi e svantaggi, provali tutti e due per un progetto ciascuno e vedi dove ti trovi più a tuo agio. Per esempio avere i task dentro la pagina del progetto può essere utile se vuoi condividere quella pagina del progetto con un cliente e fargli vedere lo stato dei vari task, perché una volta che condividi la pagina hai automaticamente condiviso tutto quello che c'è dentro. Poi comunque fammi sapere nei commenti quale delle due varianti preferisci. Quello che ci manca è che magari non abbiamo definito bene le caratteristiche dei task. Allora, per esempio, dentro questa tabella, che alla fine è una tabella, la apro a pagina piena, cliccando qui posso aggiungere altre proprietà, altre proprietà a questi task. Allora c'è la sign, quindi le persone, come ti ho fatto vedere prima, una proprietà select che è quella che ho aggiunto io prima, la togliamo perché in questo caso non la usiamo, e poi tipicamente magari al task puoi andare ad aggiungere una scadenza, quello sicuramente, quindi è un dato di tipo data, vedi, date, e lo chiamiamo scadenza, e si fanno esattamente le stesse cose che si potevano fare di là, quindi con eventuali reminder anche. Poi un'altra cosa è il progetto di cui fa parte, ma quello te l'ho fatto vedere nell'altra tabella. Poi ci potrebbe essere il tempo, quindi time tracking, che sarà una proprietà di tipo numero, perdonami, ecco, prima scegli il tipo e poi scegli il nome. Poi ci possiamo mettere la durata stimata, quindi di nuovo un numero, durata, e mettiamo in minuti, ecco, io ho usato questo in certi casi. Poi potremmo mettere il cliente, però il cliente è già un riferimento all'interno del progetto, siccome il task è collegato al progetto non mi metto a duplicare le informazioni e poi non si capisce niente. Una cosa un po' più sofisticata è selezionare le dipendenze, ovvero quali task bloccano altri task sostanzialmente, cioè per esempio la scaletta di una pagina di vendita non può essere fatta se non fai la chiamata conoscitiva, ovviamente. Quindi aggiungiamo una proprietà ed è una relazione, sarà una relazione un po' strana, una relazione con se stesso. Questo database si chiama task e vedi che con questa i ti indica che in questa lista di database con cui vogliamo creare la proprietà c'è la possibilità di collegarlo a se stesso. Allora lo collego a se stesso, attenzione, però in direzioni separate, non voglio che scaletta, pagina di vendita dipenda da chiamata conoscitiva e chiamata conoscitiva dipenda da scaletta a sua volta, quindi voglio separare le direzioni, ok? Mi fa questo schemino riassuntivo che secondo me non è tanto utile. mettiamo dipende da, avvio la relazione e vedi che lui mi ha creato due relazioni, una è in andata e una è in ritorno. Purtroppo se io cancello questa, se io clicco qui e cancello, le cancella entrambe, quindi dobbiamo tenercele appunto entrambe. Però a me interessa soprattutto la prima, quindi scaletta, pagina di vendita dipende da chiamata conoscitiva. Andiamo a vedere cosa succede in chiamata conoscitiva, vedi? Chiamata conoscitiva non ha scaletta, pagina di vendita, indipende da, ma ce l'ha in quest'altra che non abbiamo ancora nominato. Quindi potremmo chiamarla così, rename, blocca. Quindi chiamata conoscitiva blocca scaletta, pagina di vendita e scaletta, pagina di vendita dipende da chiamata conoscitiva. Oppure potremmo chiamarla per fare, potremmo chiamarla è bloccata. Ok? Questa è una roba un po' più sofisticata, ti serve quando hai progetti che includono tanti task e magari poi quei task sono fatti da diverse persone e quindi poi hai bisogno magari di sollecitare qualcuno che finisca la sua parte. Per quanto riguarda il tracciamento del tempo, non c'è un modo per integrarlo all'interno di Notion. Ci sono dei tool che si integrano in Notion, uno è Clockify, che così come Toggle per esempio, ce ne sono anche altri, che sono gratuiti, ti permettono di tracciare il tempo e poi hanno una estensione di Chrome che ti aggiunge un widget sostanzialmente su ogni pagina di Notion in cui tu clicchi e lui avvia il tracciamento dentro Clockify. E poi però non c'è un avanti e indietro di dati, devi comunque trascriverlo a mano. Quindi alla fine se vuoi tracciare il tempo trascorso dovrai sempre metterlo a mano. Una cosa interessante, però chiaramente un po' arbitraria, è il progresso di completamento. Quindi clicchi su Add Property, metti Number, ma scegli un Number di tipo Bar, per esempio, no? E quindi chiami Completamento e metti la percentuale di completamento, non la spunta. E quindi, per esempio, lasciamolo verde, diciamo che vogliamo anche mostrare il numero e così ti faccio vedere di cosa si tratta. Completamento, scrivo 90 e vedi? Viene il 90%, scrivo 10 e diventa il 10%. Eventualmente, è solo una questione estetica, potresti anche mettere l'anello e potresti eventualmente anche nascondere il numero. Questo qui è più per il tuo colpo d'occhio personale, anche perché se vuoi puoi andare qui sulla visualizzazione e cliccare sui tre puntini andando poi a mostrare, vedi, nella lista proprietà a mostrare, scendi giù, scendi giù, scendi giù, il completamento. Ora è nascosto, lo mostriamo e così ce lo mostra sotto ogni titolo del task. Sempre, per quanto riguarda la visualizzazione, puoi cliccare sui tre puntini qui e cliccare su Full Width, così la pagina viene messa a piena larghezza, se ti è più comodo. In questo caso ho uno schermo grande e non mi serve, dipende un pochino da come lavori tu. E il colpo d'occhio è più utile. Ti ho detto tutto quello che ti serviva anche per i task. Chiaramente tutte queste proprietà che ho messo qui si possono mettere anche se usi la funzione qui della tabella di task. Chiaramente le vedrai poi visualizzate nelle colonne qui in alto. Un'altra cosa interessante sono i template. Quindi, attenzione, in particolare nei progetti ti potrebbe tornare molto utile questo tipo di template. Hai visto che ho creato questo progetto con dentro la sua tabella di task, o meglio la sua board di task. Allora, cancello la parte iniziale della checkbox che non mi interessava. Invece di dover a mano, ogni volta reinserire la board, cosa faccio? Creo un template. Quindi vado qui vicino a new, punto e clicco sulla freccia che punta verso il basso, clicco su new template, vabbè lo chiamo progetto semplicemente, e qui inserisco una board, board view, che sarà nuova e si chiamerà sempre task. e poi ho bisogno di aggiungere le proprietà dentro questi task. Quindi clicco su new, apro task, e inserisco le mie proprietà. E avevamo detto per esempio date, quindi la scadenza, e poi durata, eccetera. Adesso non rifaccio tutto quanto. sostanzialmente rimetti le proprietà che c'erano dall'altra parte. E, attenzione, così hai un, vedi, un template per i progetti, sempre pronto qui. Quando vuoi creare un nuovo progetto, clicchi sulla freccina verso il basso e clicchi su progetto. Oppure, metti questo progetto come set as default, for all views in progetti, esatto, e quando premi new, lui ti crea un nuovo progetto che ha già dentro, attenzione, la board, e ha tutte le proprietà corrette. E questo ovviamente è ottimo, ti permette di, è a tutte le proprietà corrette, vedi qui. E questo ti permette di saltare un sacco di passaggi. Ora, ti ho dato delle informazioni, uno scheletro su cui puoi lavorare, e ti ripeto, in descrizione hai il link per scaricare quello che hai visto in questo, in questo tutorial. Poi puoi personalizzarlo come preferisci, e puoi aggiungerci delle cose, puoi modificare quello che ho messo io, poi si può diventare matti con il roll up e le formule per segnare il completamento del progetto in base ai completamenti delle task, eccetera. Talvolta, e queste cose sono più per dimostrare quanto sei bravo su un ocean, piuttosto che per fare una cosa veramente utile. Ma, ma, comunque, se hai delle domande, o delle idee, o delle cose che non hai alba di come tracciare, e non ti ho fatto vedere io, scrivimi nei commenti, perché magari ti rispondo lì, oppure ne faccio un altro video. In ogni caso il commento lo leggo, e una risposta da qualche parte ti arriverà. Se questo video ti è piaciuto, o ti è stato utile, clicca mi piace, che è la cosa perfetta che puoi fare per aiutarmi a capire, quali tutorial funzionano, e come proseguire su questo canale. Ti ringrazio di avermi seguito fin qui, arriveranno altri tutorial su un ocean, quindi ricordati di non perderti i prossimi video. Alla prossima, ciao!